L'inclusione e la realizzazione della nuova stazione ferroviaria Xirbi come nodo intermodale della nuova linea ferroviaria Catania-Palermo rappresenta per la città un autentico fattore di sviluppo economico vero che non va assolutamente perduto perché ne va di mezzo il futuro della nostra città e dei suoi abitanti. Questa amministrazione comunale che si trova ad avere tra le mani questo importante scottante problema epocale faccia tutto il possibile condornandosi di persone veramente capaci affinché non vada a vanificarsi questa occasione storica della città e dei suoi abitanti. Lo ripetiamo fino alla noia sviluppo economico è quel fenomeno che porta all'aumento del reddito pro capite di tutta la popolazione e questo certamente lo è perché la realizzazione e il conseguente funzionamento porterà alla città così tanto benessere e occupazione che il reddito pro capite di tutta la popolazione non potrà non verificarsi quindi occhi aperti e vigili affinché la città non venga ad essere raggirata da nessuno. Il sindaco Roberto Gambino ha avuto in queste ore il primo tavolo tecnico con coloro che stanno redigendo il progetto esecutivo della ferrovia Catania-Palermo e che prevede il nodo intermodale a Sirbi come strategico per il perfetto funzionamento dell'intera linea ferrata ad alta velocità. Il tavolo tecnico essendo il primo ha tracciato le linee principali esaminando i fattori principali adesso si ritornerà presto ad esaminare il progetto su tutti i punti di vista facendo sì che tutte le osservazioni intelligenti e funzionali dell'amministrazione comunale vengano inclusi nel progetto per diventare esecutivi e realizzabili. L'opera è finanziata per oltre 6 miliardi di euro e questo fa ben capire a tutti la maestosità del progetto e l'importanza che riveste per l'economia della Sicilia e per Caltanissetta grazie al nodo intermodale di Sirbi che presenta tutte le caratteristiche tecniche di fattibilità dell'opera. Attenzione a tutte a far sì che si raggiunga l'obiettivo senza stare a tirare eccessivamente la corda sino a farla rompere perché esistono le alternative a Sirbi e quindi potrebbe perdersi l'occasione che è più unica che rara. L'amministrazione fa sapere che ha tutte le buone intenzioni per far sì che l'opera si realizzi con Sirbi al centro della tratta Palermo-Catania. Il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancellere da parte sua si è impegnato in prima persona affinché Caltanissetta sia tenuta nelle debite e considerazioni e ottenga quello che è possibile con il massimo dei benefici. I tempi sono questi in questo anno che verrà tutte le decisioni verranno prese e quindi si saprà se Caltanissetta c'è o non c'è e se lo sviluppo economico sarà una realtà oppure un altro imbroglio a favore di altre realtà dell'isola. Al tavolo tecnico rappresenta l'interaggiunta comunale i maggiori dirigenti dell'ufficio tecnico e i progettisti delle ferrovie dello Stato.